Bossi in incognito con Max Giusti. La puntata di stasera all'arriva 1920. Nuovo appuntamento con il programma che vede il capo di un'azienda mascherarsi e interagire con i propri dipendenti. Nuova puntata. Oggi lunedì 28 ottobre 2024. Di Bossi in incognito. La decima edizione del docu reality condotto da Max Giusti in prima serata su Rai 2, a partire dalle ore 21.20. Come al solito, Max si vestirà da operaio per andare in missione per conto del capo, se dovesse servire. La nuova stagione si compone di cinque puntate. Le prime tre sono partite dal 22 ottobre, per tre settimane, mentre le altre due saranno trasmesse nel 2025. Nuovi, Bossi, racconteranno le loro storie e accetteranno la sfida lanciata dal programma. Lavorare una settimana insieme ai propri dipendenti rigorosamente in incognito. Bossi in incognito. L'azienda di stasera. La riva 1920. Storica azienda brianzola. Affonda le proprie radici in una tradizione artigianale che unisce creatività e sostenibilità. Monica Riva. Rappresentante della quarta generazione della famiglia. Si cala nei panni di, dipendente, sotto mentite spoglie per svolgere alcune mansioni aziendali insieme ai suoi operai. Dalla levigatura del legno con Mamadù alla resinatura dei tavoli con Alessandro. Fino all'imballaggio dei pezzi finiti, Monica esplora da vicino le diverse fasi produttive. Con lei, in ogni momento, c'è Max Giusti, per l'occasione camuffato da operaio. Un'occasione unica. Bossi in incognito rappresenta un'opportunità unica per i dirigenti aziendali, come Monica Riva, di osservare le dinamiche interne e conoscere da vicino i collaboratori. Da una parte, infatti, i boss possono scoprire i punti di forza e le difficoltà che il lavoro quotidiano comporta. Dall'altra, i dipendenti hanno la possibilità di mettere in mostra le proprie competenze, mostrando in presa diretta le sfide e i successi della loro routine. Un tipo di esperienza che crea un terreno fertile per una migliore comprensione reciproca, in cui entrambe le parti si trovano a scoprire gli aspetti professionali ma soprattutto quelli umani, l'una dell'altra. L'idea della puntata di stasera, per mantenere segreta la vera identità di Monica Riva, la produzione ha messo in scena una copertura ingegnosa. Ai dipendenti è stato infatti raccontato che stanno partecipando alle riprese di un nuovo format, cambio lavoro, dedicato al ricollocamento professionale. Uno stratagemma che, assieme a un look messo a punto, consente a Monica e a Max di interagire liberamente con i lavoratori. La verità sui loro, colleghi, verrà fuori solo al termine della settimana di riprese. Il format, Bossin Incognito, prodotto da Endemol Shine Italy, è un format ormai di successo apprezzato in numerosi paesi, che punta a svelare il dietro le quinte della gestione aziendale. Grazie al reality, i leader aziendali possono fare un'esperienza diretta dei compiti svolti dai propri dipendenti, superando barriere e gerarchie. In ogni puntata, il camuffamento e la convivenza forzata danno non solo visibilità al valore del lavoro di squadra, ma offrono soprattutto emozioni e spunti di riflessione unici.